ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora oggi siamo qui con questa super scatola gigante aperta da ormai millenni e tocca a skyler breccio e poi con violet la finiremo molto bene però ora ci concentriamo con skyler abbiamo fatto ruby poppy sunny jade e ora skyler quante volte ho detto skyler allora in questa scatola arriva la bambola quello che su il pettinino e lo stand e basta allora qui il test dei capelli si vede già che qua è un sasso ok si vede già che è un sasso devo dire che nel suo outfit non mi convince proprio come vestita sinceramente quindi adesso non so questo vestitino fino a qua è bello ma per questa cosa qua con sotto sta maglietta questi calcini a rete con i sandali non lo so ha bisogno forse di un nuovo look io non lo so per il momento la cosa che so che adesso la leggo da scatola così le facciamo il test i capelli capiamo un po tutto e poi vediamo una cosa alla volta ok allora partiamo subito con un difetto che ho appena notato montando lo stand non so se vedete esatto guardate qui manca un pezzo di stand pensate averlo rotto io ma invece tipo stato quasi bo sistemato non lo so però ne manca un pezzettino e arriva anche il pettino blu molto molto glitter house che sciccheri su questo non c'è niente da dire vediamo se la bambola sta su mentre io dovrebbe starci ok è un po così però ci sta l'importante che ci sta molto molto bene allora qua c'è un plastichino da dove è saltato fuori facciamo subito al test i capelli subito 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 che è cioè gelato ingellato che sembrava di più vediamo di qui ok è ingellata qua molto ma è una schifezza abbastanza non così tanto vediamo poi a lavarli i capelli quanta roba verrà via dato che già adesso vedo roba staccarsi però questi dopo ieri sistemiamo allora direi subito di levarle gli orecchini è partito via l'orecchino e anche qua i suoi ricchi sono molto belli levati è ok allora sono due lune ovviamente con sulla stellina qualche decorazione qualche bigolina eccola argento molto molto carini ma non li teniamo su pettino mettiamo qui poi direi di guardarle il viso e poi parliamo un po di come vestita comunque sto notando che non ha sullo smalto nemmeno lei allora alla faccia abbastanza scintillante si è scintillante alla riga sul rossetto questa cosa qua non mi piace però su queste le hanno fatte anche abbastanza evidente prova bene poi abbiamo un po di marone un po di azzurro un po di bianco il liner qua sotto c'è un po di azzurro qual trucco è un po rovinato difettata questa bambolina e stiamo notando però finché sono cose piccole che non si notano va bene ok 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 poi allora qua i capelli sono di tre colori blu azzurro e questo con azzurro molto molto più chiaro perfetto non vedo l'ora di sistemare di questo gel guardate qualche casino guardate qua poi sono boh boh e ora vediamo veniamo a noi vestiti mettiamoli subito della gamba dritta perché non si sa mai a parte di qua allora stiamo guardando le scarpe vogliamo le scarpe cioè sui sandali qua c'è la base tra spadeo dire che questo se la viaggia molto ma non mi piace il fatto che abbia sui calzini cos'è sta roba ecco non mi piace molto il fatto che abbia sui calzini aia e questo sandalo poi tende anche a viaggiarsela abbastanza vediamo sia il piede difettato spero che forse può vedete comunque sono molto carine le scarpe ma questo anche no questo anche no e niente no il piede mi sembra normale proprio questo non lo so non capisco ma va bene così per quanto riguarda il vestito invece possiamo notare che invece è bello ma qua non so perché hanno fatto sta roba con sotto anche la maglietta allora qui non lo so io non lo so che non riesco a levare questa roba volevo un attimo provare a levare quello che ha sotto per vedere se aveva un po più senso ci sono alcuni che azzeccano completamente il look invece ci sono altri che secondo me lo fanno un po alla casaccio è difficile sfogliare queste robine qui porcaccia una ai capelli e manca questa questa c'ha la manica o ora ma devo rimettere dentro le braccia ma che fatica che fatica che fatica forse ci voleva sotto una maglietta secondo me meno imponente di quella lì maniche lunghe bianca forse un qualcosa di più sulla trasparenza secondo me o se no a fare questo in versione un po più carino ok allora ce l'ho fatta giriamo ovviamente adesso questo è largo eh sì quindi dovrò fare un po così no vedete questo vestito è stato fatto proprio per avere sotto qualcosa però a me con tutta la maglietta non piace tutto con questi sandaletti qua non lo so non lo so non lo so non mi convince quindi probabilmente le cambierò il look a questo punto le vediamo tutto perché tanto vabbè la lascio un attimo vestita comunque non lo so adesso come la vestirò adesso non lo so quello che so che dobbiamo andare assolutissimamente a sistemare questo disastro quindi direi di andare subito e intanto cerco anche un po qualche outfit un po più degno di di questa signora come bella lei poi lei è così bella ma non lo so non ci siamo non ci siamo molto bene aveva fatto lo shampoo eccola qui devo dire che come pensavo i capelli se ne sono dati via veramente tanti li ce ne sono ancora continuavo a tagliuzzare e continuavano a venire via poi ovviamente li butto via allora intanto foto di dito molto bene adesso li tamponi i capelli vedo un po se farle qualche acconciatura o se lasciare i capelli così e poi vi faccio vedere come ho deciso di vestirla very well e vola eccola qua allora come vedete come vedete come vedete l'ho lasciato su il suo vestitino ma ho fatto qualche cambiamento che adesso ovviamente vi spiego perché sennò che cavolo siamo qui a fare questo è il vestitino che aveva su prima se vi ricordate allora questo era il pirulo che tipo se la svolazzava non stava fermo come quello come questo allora che cosa ho fatto ho preso un goccino d'atta e l'ho fatta attaccare al vestito così almeno tutte e due sono attaccati poi come vedete non ci sono le le maniche che si chiamano perché essendo che questo visito qua era stato fatto largo per tenere sotto la maglietta io gliel'ho tolta le ho fatte entrare e poi dietro le ho messo praticamente la mollettina per farci stare il vestito come si dice bello bello tirato perché non stava quindi non stava col velcro quindi ho tirato e ho messo questa mollettina che intanto viene nascosta dai capelli che avevo acconciato adesso devo rimetterli a posto così devono asciugarsi come li metto io e questo è le scarpe le ho tenuto queste perché non non avevo altre scarpe di questo colore anche perché secondo me ci voleva un qualcosa di un po più fine anche che ecco ho buttato giù promettino perché queste sono molto carino che c'è dentro l'arancio e vabbè il suo personaggio ha dentro anche l'arancio quindi va bene così però quello come si dice che dico io e che si vede che sono molto molto larghe magari ci voleva magari un sandaletto un po più sottile proprio il momento ho solo queste e li lascio su queste molto bene e i capelli che li voglio lasciare asciugare così boccolosi con un po di movimento qua davanti col chef ok questo è devo dire che così mi piace molto molto di più che con tutto di com'era prima e vedere i capelli finalmente a posto è tutta un'altra cosa adesso devo farli stare in una posizione un po strana per lasciare la piega e poi quando li pettinerò verranno un po più morbidi un po come ho fatto con g well g well come cavolo si dice non lo so comunque pomettino ti piace se è soddisfatto sì molto bene promettino ti ringrazio allora mi raccomando fatemi un po sapere cosa ne pensate di questa scaler e come l'ho pettinata e come l'ho vestita fatemi sapere un po intanto vi ricordo instagram link amazon e patron giorno all'info box very very well pomettino è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao